Gentili telespettatori, buona giornata. Quattro pernacchie, quattro pernacchie. Cosa vuol dire? Lo scrittore antifa, Bottura, conduttore anche radiofonico, dice ridicolizza l'assalto alla sede provita dove hanno spaccato in 200 molti incappucciati, hanno spaccato i vetri, hanno imbrattato i muri e hanno addirittura fatto entrare un ordigno tramite una finestra rotta che fortunatamente non sono riusciti ad attivarlo. E definire quattro pernacchie ridicolizzando l'attacco a provita con vetrine rotte, muri imbrattati e un ordigno, mi sembra veramente incredibile. E così lui, Bottura, minimizza l'assalto alla sede di provita. Quattro pernacchie. E per fortuna che lui dice di essere contro tutti i fascismi, perché i fascismi ci sono di destra e di sinistra. E così a sinistra vedono fascismi dappertutto, poi quando si vede il fascismo di sinistra, ed è evidente, dicono solo che sono quattro pernacchie. Minimizzano, tacciono, si nascondono, non commentano. Avete visto fino a questo momento che sto registrando questo video, non c'è stata nessuna dichiarazione di Landini e della Schlein su questo. Ma come? Si erano tutti indignati per l'assalto alla CGL? Mentre per l'assalto a questa associazione, che evidentemente ha idee di destra, allora il silenzio è assoluto. Voi sapete che chi ci ha consente. Ma il silenzio in questo caso legittima le violenze. Non si può stare in silenzio. Un capo politico non può stare in silenzio davanti a queste cose, a meno che non ne condivida le gesta. Nelle ore successive all'episodio Bottura su Twitter aveva scritto se quattro pernacchie davanti a una sede diventano attentato dei peggiori, mi sa che non siete così maci come volete far credere. Peccato però che le immagini delle vetrine rotte, i muri completamente imbrattati, le serrande divelte, scontri con la polizia, il tentativo di incendio della struttura. Poi è stata trovata anche una bottiglia riempita di polvere pirica, ritenuta fortunatamente inesplosa, rinvenuta all'interno degli uffici. Sono stati chiamati anche gli artificieri e la polizia scientifica, che poi si aggiungono ad altri atti vandalici e danneggiamenti contro le sedi della stessa associazione in altri luoghi. Eppure secondo Bottura, conduttore radiofonico, lui è contro tutti i fascismi. È però di destra. Quando sono di sinistra diventano quattro pernacchie. Alle sue affermazioni aveva replicato Michele Ruiu, esponente di Pro vita e famiglia, dice la fatica che fate a condannare questo gesto violento è la cifra statistica della vostra codardia e della vostra onestà intellettuale. Mentre celebrate la giornata contro la violenza sulle donne, pensate che alcune donne e uomini si meritano minacce, almeno abbiate la coerenza di ammettere che pensate che ce lo meritavamo, dice l'attivista. Altrettanto il commento del senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che dice per lui un ordigno esplosivo, il tentativo d'incendio, l'aggressione dei poliziotti, la rimozione delle transenne, le ripetute minacce, sono quattro pernacchie. Ma il conduttore radiofonico, invece di rivedere le proprie dichiarazioni, anche la luce dell'ordigno trovato, ha rincarato la dose e ha criticato la premier Meloni. Perché aveva espresso vicinanza la ONLUS e aveva invitato i leader dell'opposizione a stigmatizzare le violenze. E continua questo personaggio dicendo, ma come? Due scritte diventano una sede devastata? Quando si trasforma la verità in questo modo tutto è davvero possibile. Va inoltre segnalato che la polizia ha caricato duramente mentre la sede CGL scortò i devastatori veri in allegria. C'è molta malafede, molta, dice lo scrittore sinistro, offrendo una ricostruzione tutta sua dei fatti. Quattro pernacchie e due scritte sui muri. Beh, è una faziosità veramente discutibile. Malafede, ecco. Malafede viene attribuita sempre agli altri e mai a se stessi. Questo modo di ragionare, di pensare lo vediamo tutti i giorni. La sinistra può, la sinistra può fare tutto quello che vuole e la destra no. No, anzi, contro la destra si può fare qualsiasi cosa. Si può dire qualsiasi cosa contro i suoi capi politici, perché loro nell'ideologia sinistra, quelli di destra non valgono niente. E' gente che non ha, che non sa, che non conosce, che non sa parlare, che non ha studiato. Quindi con loro il dialogo non serve neanche perché non sanno dialogare. Questo è quello che pensano a sinistra. E poi abbiamo visto, proprio in questi mesi, anche in questi anni, che a sinistra sono molto poco democratici, molto poco inclini al dialogo, al confronto con gli altri, sono molto aggressivi, sono molto autoritari, prepotenti, dove si fa come si dice loro, si deve pensare come dicono loro. Quindi hanno un atteggiamento di chiusura, poco democratico, di non confronto con gli altri e di idee molto, diciamo, oscure, che fanno definire ormai questa sinistra italiana molto vicina al fascismo di sinistra. Potete cercare la definizione in internet, la cercate, la trovate. Se ne parla molto poco, ma esiste come. Come il patriarcato è di destra e di sinistra, non c'è differenza. Anche il fascismo è di destra e di sinistra. Cambia solo l'etichetta. In uno gli aggiungi di sinistra e in un altro gli aggiungi di destra. Ma alla fine fascismo inteso come tentativo di silenziare gli altri, di non farli parlare, è proprio quello che vediamo da mesi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.